Siamo qui con Andrea Giuliacci che è il nostro testimonial per il progetto Io ci sto, mobilità sostenibile. 11 comuni si sono riuniti nel Saronnese per fare questo progetto che contempla una serie di azioni. Ma cosa centra il clima con la mobilità sostenibile? Centra tantissimo perché purtroppo il cambiamento climatico, cioè questo clima che sta cambiando, rende sempre più difficile avere, soprattutto per le città sulla pianura padana, una qualità dell'area accettata. Il cambiamento climatico tende a peggiorare la qualità dell'area. Come possiamo fare per avere una qualità dell'area migliore? Dobbiamo adottare delle misure per cui nell'atmosfera inclinano meno sostanze inquinanti e quindi viene naturale adottare misure anche di mobilità sostenibile perché la mobilità sostenibile ci consente di inquinare di meno e quindi di avere una qualità dell'area migliore, senza poi togliere che tra l'altro questo contribuisce anche a combattere il cambiamento climatico, ma prima di tutto ci regala una qualità dell'area migliore. Adesso si parla di global warming ma forse di emergenza, siamo in emergenza adesso addirittura, non più di cambiamento. Direi di sì, nel senso che questo cambiamento climatico purtroppo ci presenta sempre più spesso delle situazioni meteoclimatiche di emergenza, ovvero ondate di caldo assai intense come non eravamo abituati a sopportare, piogge violente alternate a lunghi periodi di siccità proprio perché il cambiamento climatico sta estremizzando il clima, quindi passiamo con maggior facilità rispetto ad un tempo da un estremo all'altro e gli estremi a me da punto di vista climatico raramente sono gradevoli. Sì, non ci fanno molto bene, non viviamo in modo piacevole nel nostro mondo. Esatto, assolutamente e tra l'altro portano anche danni, danni alla salute, danni economici e quindi dobbiamo adottare, ripeto, delle misure per adattarci a questo clima che sta cambiando e la mobilità sostenibile è una di quelle misure, una delle misure più efficaci per adattarsi al clima che cambia. E' molto interessante la considerazione che aveva fatto prima quando diceva che sono vari i fattori che incidono sul cambiamento climatico, però noi possiamo incidere soltanto noi con la nostra azione, quali sono le altre, oltre all'estero umano che può fare delle misure. Certo, perché il clima sta cambiando sia per fattori naturali, il sole che non è vero che emette sempre la stessa quantità di energia, passa da fase in cui emette un po' di più i vulcani, perché nelle fasi in cui i vulcani emettono tante sostanze nell'atmosfera, l'atmosfera tende a diventare opaca ai raggi solari e poi c'è l'uomo con le emissioni di gas serra. Ora, noi non abbiamo un termostato per dire al sole emetti di più, emetti di meno, non possiamo costringere i vulcani ad emettere sostanze nell'atmosfera, l'unico fattore su cui possiamo agire sono le emissioni di gas serra e le emissioni di sostanze inquinanti, quindi è lì che ci dobbiamo concentrare, è lì che ci dobbiamo impegnare. Bene, allora ringrazio Andrea Giuliaci per questa testimonianza e per sostenere il nostro progetto Io ci sto, vi ricordo anche di andare sul nostro sito, Io ci sto, trattino CMS, CMS sta per ciclo metropolitana saronnese, quindi è il nostro progetto finanziato dal Ministero dell'Ambiente con un milione di euro che riguarda 11 comuni e seguiteci anche su Facebook. Mi raccomando, Io ci sto. Noi.